Musica Scaricando UnimeLab si ha a disposizione praticamente tutto l'ambiente universitario all'interno di una piccola applicazione dai singoli trasporti messinesi, qualsiasi, quali navette che portano all'università, tutti gli autobus dell'ATM, i tram, i traghetti, la Caronte, gli scafi della Bruferis ma non basta solo questo, UnimeLab fornirà anche tutte le news del proprio dipartimento, si avrà anche la possibilità di inserire i voti e gli esami che lo studente effettua si avrà anche la possibilità di inserire il proprio orario delle lezioni Già abbiamo più di 150 utenti attivi che utilizzano regolarmente l'app Quest'app al momento esiste solo per Android, quali sono i prossimi passi? Provare a cercare di svilupparla per Windows Phone e continuare a svilupparla anche per iOS visto i tanti utenti che utilizzano i dispositivi Apple Seguirci per ulteriori aggiornamenti e sviluppi tramite i nostri canali social come la pagina Facebook e tramite Google Play Musica